Domenica 23 febbraio dalle 7 alle 23 si vota per l'elezione suppletiva del Senato nel collegio uninominale 7 della Campania. Possono votare i cittadini italiani che abbiano compiuto 25 anni residenti nell'area territoriale del collegio elettorale che rientra nell'ambito delle municipalità 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Per verificare che la propria sezione elettorale indicata sulla tessera sia interessata al voto, è possibile consultare il manifesto delle sezioni elettorali pubblicato sul sito www.comune.napoli.it. Si ricorda inoltre che per votare occorre esibire la tessera elettorale e un valido documento di riconoscimento. Nel caso la tessera elettorale non sia più utilizzabile per mancanza di spazio per la certificazione del voto o perché deteriorata, è possibile richiederne il rinnovo o il duplicato esibendo la tessera originale presso le sedi delle municipalità interessate alla votazione. Gli uffici sono aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 14, venerdì 21 e sabato 22 febbraio dalle 9 alle 18 e domenica 23 febbraio dalle 7 alle 23. In caso di smarrimento o furto, il duplicato della tessera elettorale può essere richiesto esibendo la denuncia presentata alle forze dell'ordine. In ogni caso il rinnovo o il duplicato della tessera con rilascio immediato si può richiedere negli stessi giorni ed orari anche presso il servizio elettorale al Parco Quadrifoglio seconda traversa via dell'Epomeo.